In questa nostra rubrica post natalizia il nuovo successo della Sir Conard Perugia non si è fermata infatti la pallavolo e così ieri i Block Devils hanno sbancato per la verità non senza difficoltà il campo di Latina. Antonello Brughini. Arriva la prima della classe e tutti si galvanizzano. Tutti vorrebbero battere Leon e Giannelli e di conseguenza centuplicano gli sforzi. Succede anche a Cisterna dove la Sir sempre senza Anderson e Reclinski fermati dal Covid perde il primo set soffre fino alla metà del secondo ma poi ristabilisce le gerarchie e schiaccia i pontini per 3 a 1 mantenendo la testa della classifica con 6 punti di vantaggio su Civitanova. La partenza è in salita per la squadra di Gerbic. Raffaelli, Derlich e Rinaldi sono scatenati. Perugia è imprecisa. Il parziale se lo aggiudica ai vantaggi 27 a 25 la top volley Cisterna. Anche all'inizio del secondo set i padroni di casa spingono. Sul sette pari però Leon e Plotninsky soprattutto alzano la voce. Il servizio diventa un'arma letale. Alla fine gli ace saranno 10. La partita non è più equilibrata. La Sir si impone 25 a 19. Nel terzo e quarto parziale la differenza di valori è netta. Perugia festeggia. E mercoledì sera l'ultima del 2021 in casa contro Verona.